Bellugi faceva lo stopper, era un difensore, pensava soprattutto a marcare gli avversari difficilmente faceva gol, non a caso con l'Inter ne fece uno solo ed è questo visto che era l'unico che avrebbe segnato, probabilmente pensò che doveva essere eccezionale in realtà questo è un tiro da attaccante, un tiro con una coordinazione perfetta, una precisione di tiro eccezionale e credo che sia uno dei più bei ricordi che Bellugi si porta dietro della sua carriera di calciatore.